Prova, prova, prova. Mister Muschella inizia la nuova stagione della primavera, una novità anche per te. Dopo tanti anni al servizio del Protone ti ritrovi con la primavera, una grande soddisfazione immaginiamo. Sì, intanto voglio ringraziare la società, nella persona del Presidente Gianni Venna che mi ha dato questa opportunità. Lo repito un punto di partenza, sono molto contento di iniziare questa avventura e ringrazio anche l'entourage che è vicino al Presidente perché so che è una scelta condivisa. Mister, da oggi si inizia, qual è il programma di lavoro? Beh, è solito, adesso è un periodo di conoscenza con i ragazzi, quindi faremo qualcosina per conoscerci perché il ritiro serve per gettare le basi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del conoscersi come persone. L'ultimo per me, la tua esperienza in questi anni al servizio anche della prima squadra come collaboratore tecnico, quanto può essere utile? Spero che lo sia, per me è stata una cosa fantastica. Io ogni volta che tornavo a casa dicevo a mia moglie che sto facendo uno stage all'Università di Cambridge perché avevo la fortuna di lavorare con professionisti di alto livello. L'unica cosa che credo che abbiano in comune queste persone sia stata la mentalità vincente che hanno cercato di trasferire al gruppo, la voglia di lottare sempre e la voglia di difendere sempre i colori del crotone che sono per me fondamentali e cercherò di questa mentalità di portarla anche ai ragazzi. Negli ultimi anni il settore giovanile del crotone calcio ha avuto un netto miglioramento anche perché la società comunque è diventata sempre più grande e il lavoro di Galardo come supervisore e mister Parisi è stato importante. Cosa lascia in eredità entrambi? Galardo c'è ancora, quindi c'è ancora e è fondamentale per noi. Nello ha lavorato molto bene, io ho il piacere di conoscerlo personalmente quindi so di trovare un gruppo che ha la cultura del lavoro che questa è una delle migliori armi che possa avere un gruppo. L'ultima, quanto è importante curare il settore giovanile per una società così importante come quella del crotone ormai? Ma è fondamentale, nel calcio moderno abbiamo visto che i settori giovanili sono fucina di giocatori importanti per le prime squadre. Il crotone lavora bene ormai da un po' di anni e questo lo certifica anche il fatto che nel mio staff che poi io faccio parte del staff, non è che sia il mio staff ci sono gente professionista, gente che ha voglia di lavorare gente che ha fatto calcio serio come Concetti gente come Durante che è molto professionale e ci sarà Roberto Parisi che adesso è in prima squadra che sta lavorando con i ragazzi quindi questi sono segnali importanti quindi la società crede molto nel settore giovanile. Grazie